Ecco, siamo a Elista e tramite un colpo di fortuna stiamo conoscendo un atamano, un capo cosacco, molto gentile, molto ospitale, che ci dedica un po' del suo tempo per raccontarci un po' la sua vita, la sua storia e la sua tradizione. Che cosacchi di Don che di Astrakhan sono uguali, è l'unico componente dei cosacchi mondiali. Perchè è di Astrakhan? Perchè loro avevano un han, Siribzat Tumen? Un han, si. Tu non ero un po' del Casacchi Polk, nel primo anno del 1812, venivano a Parigi. Ha avuto la truppa casacca di di Astrakhan che sono entrati i primi nel 1800 a Parigi contro Napoleone. Lui è un cosacchi... Siribzat Tumen si chiama Elhan. Come si chiama? Siribzat Tumen. Siribzat Tumen. Siribzat Tumen. Il suono il suor Questo era per battere come il suorio? Il suorio, per battere. Il suorio per battere. Per battere! è morto dall'immigrazione poco tempo fa in Grecia hanno trovato i suoi tombi la sua tomba si è morto durante la guerra civile tutti i cosacchi hanno sofferto tanto quando in Svastopol la guerra civile calmycchi polk защitava l'arrivamento calmycchi l'arrivamento calmycchi quando in Crimea in Svastopol i bianchi andavano per non essere sulla strada dei rossi la truppa cosacca prendeva difesa di calmycchia prendeva difesa di loro cammino di loro cammino e quando hanno dovuto attraversare i fiumi anche un po' di mare non c'era abbastanza di nave per tutti e c'era un episodio tragico molto tragico per i cosacchi di calmycchia che loro hanno dato a tutti la possibilità di attraversare i fiumi e loro soli non hanno potuto farlo perché non c'era posto e quando i rossi sono arrivati l'hanno ammazzati tutti c'erano non soltanto i guerrieri cosacchi però i guerrieri erano con le sue famiglie che sono anche periti durante questo episodio tragico della guerra civile russa e poi durante la prima guerra mondiale alla morte di Lenin è arrivato Stalin e ho letto che gli hanno deportati tantissimi cosacchi in Siberia e poi per la prima guerra mondiale quando l'hanno e l'hanno e l'hanno e l'hanno e l'hanno era un episodio che sono andati a fare la guerra. In 1942 il guerriere Erni Delica ha fatto una battaglia sul fiume Don è stato già decorato della medaglia d'oro di eroe di sovietico. Tanti vecchi, tanti bambini sono feriti durante questo processo di deportazione strada facendo. 70% ho letto, 70% è vero, è vero, è vero questo. Lui adesso come capo attamano qui a Elista fanno qualche riunione ogni tanto tra di loro, si vedono, si parlano. Ora come capo attamano qui a Cazate qui vivono? Ho una attamana, ho un'impello in cui si tratta, dove si preparate, e avete una vita di un'attività? ora ci sono un paese di Gordovikovske è stato un paese di Gordovikovske ha nome di Gordovikovske è stato un paese di Gordovikovske è stato un paese di dare l'educazione cosacca ai figli, ai bambini la cultura nazionale e la cultura dei cosacchi tutto legato ad educare dei buoni bambini in città di Elista, sulla via Radonjewski, ci sono due scuole in città di Elista, sulla via Radonjewski, ci sono due scuole dove hanno le classi di cosacchi questi qua sono i suoi bambini come? sono i suoi bambini questo è il suo nipote questo è il suo nipote e questo è il suo figlio piccolo e due figli stanno facendo l'armata di paracadutisti con il contratto con il contratto cioè in privato per l'armata russa prendono soltanto quelle più forti con cui firmano il contratto e dopo pagano lo stipendio dicente per fare il servizio e uno dei suoi figli, il secondo figlio, fa servizio nelle truppe dove ci sono adesso le cosacchi di Don perché loro sono di Astaca di Astaca dove abito io in Carnia praticamente 80 km dalla provincia di Gorizia c'è un paese che si chiama Resia e nella seconda guerra mondiale si sono stabiliti tantissimi cosacchi del Don e dove si vive e dove si vive c'è una provincia di Carnia e il quartiere che si chiama Resia e in questo quartiere dopo la seconda guerra mondiale si sono stati vivendo molto cacchi di Don e lo ha visto? e lo ha visto? no, perché io dovrei andare lì alla fine di questo viaggio per fare il finale perché lo cerco e dopo lo vedo la fine di questo paese si ricerete dove non avrò allo i miei italiani come i i cazali come i cazali come i cazali come i cazali per farlo e li potrebbero e poi poterli con voi e i cazali e farli che con i cazali questo lo dovremmo risolvere con i cazali sì lui si sente proprio cosaco cento per cento, se ci tiene, ci tiene e i cazaki è stato un etno militare e i cazaki è stato un etno militare e i cazaki hanno giocato un ruolo molto importante nella storia della Russia perché qua i confini del sud della Russia sono stati protetti sempre dai calmici perché l'armata è stata poco numerosa però molto molto efficace come aveva raccontato Napoleone che diceva datemi cento cazaki, conquisto la Russia appunto perché li ammirava come grandissimi combattenti dei tempi attuali cosa pensa? della Russia attuale, di Putin, dei cambiamenti che ci sono stati? politici questioni, Leonid che pensate di oggi della Russia di ciò che succede nella politica arena il nostro amico e amico Vladimir Vladimir Putin io penso che la Russia è una strada molto confezionale la Russia è un paese multiconfezionale e multinazionale e solamente l'amicizia tra i popoli che vivono in Russia potrà salvare la Russia e unirla di più adesso ci sono delle forze strane che vogliono mettere il popolo contro l'altro non gli piace e non gli piace ad esempio che la Russia adesso sta facendo un conflitto e non riesce a farlo finire in Ucraina lui è contro questo non gli piace che la Russia sta facendo l'intervento in Siria nonostante il fatto che deve essere protetta e lì c'è sempre la rivalità Russia e America l'America va da una parte e la Russia dall'altra c'è una concorrenta борьba tra gli americani e la Russia chi? per lui è chiaro Saddam Hussein mi piace Kaddafi Kaddafi, Saddam Hussein sono stati ammazzati proprio dagli americani e non gli piace per niente no, lo so, sono brutte cose la guerra perché vengono fatte solamente per tantissime volte per il petrolio, per i soldi, per il potere i soldi, per i soldi, per i soldi, per i soldi e per i soldi, per i soldi, per i soldi e per i soldi e per i soldi personali che sono in potere questa qui è storia attuale io sono rimasto molto contento di sentirlo parlare si vede si vede che è una persona decisa, forte e concreta e mi ha fatto molto piacere conoscerlo e lo disturbiamo ancora per qualche foto anche perché se ha freddo lui abbiamo più freddo noi e non ci dobbiamo più ammazzare non ci dobbiamo più ammazzare andiamo grazie 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 questo è la bandiera della tua famiglia e la bandiera della tua famiglia quando io prendo la bandiera la bandiera? si sono 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 sono